Questa serata sicuramente ci rende orgogliosi di averla organizzata. Abbiamo avuto fino a lunedì le iscrizioni, erano più di 1700 lunedì sera e se ne saranno ancora di più penso oggi. Perciò abbiamo fatto veramente una cosa importante, importante per l'azienda ma importante soprattutto per le persone che vengono per sentire Rheinland e a sentire raccontare anche molto di Walter Bonatti che per noi brianzoni, mozzesi, lombardi era il non più ultra negli anni 60. Lui è stato l'ultimo alpinista che ha fatto tutto in uno, da 15 anni lui era l'alpinista d'avanguardia mondialmente parlando, facendo sul bianco una via nuova, partendo per il Gaceprom 4 per il Calacorum, ritornando e andando in Patagonia o andando nelle Ande o andando di nuovo sulle Alpi, sul Ciavino a fare una via nuova. Significa in questi 15 anni che lui ha dedicato all'alpinismo, ha fatto fra le vie più difficili sulle Dolomiti, alle vie più difficili nel bianco, nella zona del Pizzo Padile o anche in alta quota andando due volte quasi oltre gli 8 mila metri. Allora nel mio periodo bisognava ancora arrampicarsi perché abbiamo fatto tutto noi. Oggi chi va sull'Everest con questi gruppi che comprano la salita, è diventato una cosa del consumo, camminano sull'Everest, non arrampicano neanche per un metro, camminano su una pista con una cosa fissa. Loro sono partiti, sì da Scardo, anche noi da Scardo per andare al campo base del K2. Oggi la strada porta gli alpinisti fino a Paiu, poi sono ancora tre giorni, abbiamo camminato per due settimane per arrivarsi. Oggi 99% chi va sull'Everest va in elicottero al campo base, parecchi vanno in elicottero fino a 6.600 metri e poi salgono in cima, con il doppio dell'ossigeno, aprono il doppio dell'ossigeno ogni una volta. E' tutto un altro mondo. L'alpinismo tradizionale, vissuto brillantamente da Valtobonati, sta sparendo. La roccia diventa sempre più sporca. Oggi 90 e qualche cosa di rocciatori vanno in palestra, vanno a fare indoor e con questo l'arrampicata aumenta perché qualcuno di questi esce anche dall'indoor. Però la maggior parte va poi sulle faleze, su piccole pareti molto difficili, con gli speed dove non si può cadere. Questa rampicata è anche una disciplina olimpica. E' tutta dimostrazione che è sport. Sport è misurabile, l'avventura non è misurabile. Se io vado sulla parete del civetta d'inverno a farla invernale, non è misurabile con un'altra salita un anno prima. Perché le condizioni cambiano? Dove c'è un'infrastruttura fatta da chiunque, non c'è più possibile fare l'alpinismo, perché l'alpinismo è l'arte di sopravvivere in un mondo selvaggio. Noi siamo andati dove la morte era una possibilità per non morire e l'arte di non morire era soltanto un'arte perché la morte era una possibilità. Se io escludo la morte con la preparazione o con l'assicurazione nella climbing hall, nell'indoor, allora è un'altra cosa. Perché le emozioni che trovi, specialmente se sei in difficoltà, esposto al massimo in alta quota, sono le esperienze più forti che noi possiamo avere. Ovviamente, avendo la possibilità di avvicinarci alla morte, sappiamo una dimensione in più. La maggior parte di noi non è capace di immaginarsi che la vita finisce. Per questo non è saggio vedere sempre in Pietro su una vita forse anche con successo. Significa che è meglio avere abbastanza idee fino alla fine della vita per goderla e anche per riempirla. E a me l'alpinismo ha dimostrato di essere un niente in confronto alla montagna, di perdermi alla fine in un mondo di silenzio e dell'ostazio infinito, e specialmente di avere un rispetto. Più sono andato in montagna, più successi ho potuto accumulare, più piccolo mi sentivo davanti alle montagne. L'esposizione significa che sono molto lontani da ogni possibilità di essere esaurati e soltanto in questi momenti, in questa dimensione, l'alpinismo tradizionale è possibile. Quello che Bonatti ha fatto nel 1955, lui si è immerso sul pilastro del rui, mille metri di granito verticale, strappulpante, friabile parzialmente, ed era del tutto buttato nel niente e tentava, non avendo nessun aiuto, non avendo nessuno alla base di aiutarlo, si è buttato in questa esposizione e ha buttato per cinque giorni per la sopravvivenza. Una volta dentro doveva sopravvivere e non ha ceduto, ha fatto di tutto per sopravvivere. Perché? Perché l'istinto della sopravvivenza è l'istinto più forte che abbiamo, per fortuna. Senza questo istinto non sarebbe possibile andare in montagna perché le morte sarebbero troppi. Però per sentire che questo istinto è vivo in noi stessi, bisogna avvicinarsi in esposizione a difficoltà e pericoli abbastanza alti. Tu hai fatto a 19 anni il pilone della Volca? Sì. Hai letto prima chi ha fatto? No, 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 allora a quel punto ero già alpinista. Sì, ero già alpinista molto bravo. E leggevo veramente, allora leggevo, non casinché non avevo ancora scritto i libri, ma tutti quelli che ci hanno preceduti, sia la letteratura tedesca che francese che italiana, tutti i grandi, comisi stesso eccetto. Il primo libro di montagna che ho letto è Sui ghiacciai dell'Adamello, che è un libro che è veramente un po' penoso, però mi aveva portato, la mia fantasia, che prima si era manifestata sulle rive del Po, me l'aveva portato sui bianchi ghiacciai dell'Adamello. Ecco, e poi da lì e tutti gli autori che ho detto prima. E nello stesso tempo però io a mano a mano che crescevo leggevo anche autori al di fuori dell'opinismo che si chiamavano Melville, Coolwood, Jack London, Defoe, insomma tutta questa gente. E quindi io incameravo intanto la curiosità e il desiderio di voler un giorno conoscere quei posti che mi hanno tanto fatto sognare sulle pagine di questi autori, che io consideravo mangeni. E da lì poi c'è stato il mio allargare gli orizzonti dell'alpinismo e portando con tutte le sue componenti psicologiche la mia attività non più e non più soltanto sulle montagne, ma a 360 gradi intorno a me, insomma nel mondo. Per me era sempre, io sono vissuto in una valle molto stretta, sotto le belle montagne, e da noi non c'era né la piscina, né la valle. Grazie, grazie. Grazie.